Quando l'emergenza terremoto chiama, gli scout sono i tre primi a rispondere, mettendosi al servizio delle persone. È quanto accaduto anche nel 2009 in Abruzzo. Per ricordare quei momenti, il piccolo teatro Don Bosco di Padova ha ospitato una giornata di ricordo con i protagonisti dell'esperienza. Sono 660 i volontari della GESCI Veneto che sono partiti nell'arco di nove mesi per l'Abruzzo, alcuni dei quali già la sera del 6 aprile, per un totale di 104 squadre. Due o tre pattuglie a settimana hanno aiutato la popolazione terremotata in 12 tendopoli, portando appoggio pratico ma anche supporto psicologico, grazie all'animazione per i più piccoli. Tra le attività svolte, la segreteria, lo smontaggio delle tende, il sostegno diretto e terremotate in difficoltà. Un impegno importante che ha portato buoni risultati in stretta collaborazione con la protezione civile Veneta. Il coordinamento è stato molto, molto funzionato molto bene, è stato molto importante perché la Regione ci ha chiesto fin dall'inizio un contributo di volontari e noi abbiamo risposto per le capacità che avevamo di fornirli e praticamente nei 6-8 mesi di servizio siamo riusciti a dare un contributo di quasi 240 volontari che si sono susseguiti nel COM e anche nelle tendopoli del territorio di Pianola che è gestito dalla Regione Veneto. In questa emergenza è andata molto bene in quanto raccogliamo i frutti di anni e anni di collaborazione. Con la GESCI la Regione del Veneto ha stipulato una convenzione ormai da una decina d'anni e in questi anni abbiamo fatto diverse esperienze assieme e con questa emergenza veramente abbiamo fatto un salto di qualità sia nel rapporto diretto sia attraverso il Dipartimento nazionale.